In occasione delle festività patronali a Biancavilla abbiamo incontrato questa mattina Don Salvatore Ricceri, sacerdote biancavillese missionario da tantissimi anni in Africa. La sua missione attualmente è concentrata a Iringa in Tanzania. Don Ricceri ha passato da ultimo un bruttissimo periodo. A causa della sua positività al covid è stato necessario il suo immediato ricovero in ospedale. Dopo momenti di vera preoccupazione per la sua salute, pian piano, grazie alle cure e grazie alla fede che lo sostiene, è riuscito a riprendersi. Oggi è qui nella sua città natale anche per accompagnare una famiglia africana per delle cure sanitarie, in particolare Israele, un giovane operato al cuore. Oggi abbiamo incontrato, come detto, padre Ricceri e gli abbiamo chiesto come sta e come procede la missione. Ringrazio perché avete pregato per me, ho avuto il covid lì, avere il covid in Africa e ne avevo bisogno. Era una cosa veramente dura ma anche molto bella, si rinasce. Dovevo accompagnare ai primi di agosto a questa famiglia, Agnes, figlio Israele, per essere operati di cuore, però essendo stato ricoverato in maniera molto dura lì, facendo con la gip tante ore di strada, ho mandato un sacerdote ad accompagnarli. Adesso mi trovo con loro, sono stati operati e tutto procede abbastanza bene. E accolgo l'occasione in questo giorno di festa anche per chi non è stato preso dal virus. Tutti abbiamo preso il virus, tutti abbiamo la mascherina, cioè deve tutto guardare all'essenziale, rapacificarci nelle famiglie, con la suocera, i suoceri, i cognati, in modo che possiamo vivere una vita serena. Questo è quello che conta. Grazie a tutti, questa è Agnes e Israele. Sono tornati da San Donato a Milano, hanno, grazie all'offerta di tanti benefattori, fra cui tanti anche di Biancavilla, di Mister Bianco, Padre Bucolo, che li ha accolto a posto mio. E a gloria di Dio, chi salva una vita salva tutte le altre vite. Spendiamoci per gli altri. Questo è il messaggio che voglio dare oggi ai miei compaesani nella festa di San Blacido. La missione continua, mi aspettano lì e sapete come hanno visto questa realtà? Ci è stato tolto, la cosa più bella che abbiamo, tolto, perché ero lì e sono venuto a prendermi con la macchina, mi hanno preso, caricato, non ho il tempo neanche di salutarli, però poi il Signore ha voluto ritornare, per cui ci siamo un po' ripresi e io tornerò poi in Africa a continuare la missione. Naturalmente si aspetterà anche il prossimo vescovo che verrà a Catania, in modo che possiamo programmare insieme questa mia permanenza come missionario e espressione della Chiesa di Catania. Saluto per cui il mio arcivescovo adesso, Cristina, il successore che verrà e a tutti i miei compratelli. E anche a te, figliozzo. Ciao Giuseppe, auguroni.